Torna lo spettacolo del grande futsal abruzzese. Le squadre più forti dei campionati regionali si sfidano nella Final Four di Coppa Italia. Under 15, Under 17, Under 19, Serie D, Serie C2, Serie C femminile e Serie C1. Dal 2 al 6 gennaio 2022 al Palaroma di Montesilvano. L'evento più atteso della stagione sta per tornare.